che vale molto più di tre punti, tutti i giocatori hanno dato il 110%, se dovessi sceglierne alcuni direi gigantesca partita del Giurri, di Perez e di Laderos. Ora, questa partita, a parte che ci dimostra che la palla è rotonda, ma questa partita ci dice che quando tu hai un trequartista come Diamanti giochi con il trequartista Diamanti, quando non hai più Diamanti giochi sempre il trequartista e con due punte però, quindi Ballardini questo lo ha capito subito e quindi un Bologna che ha tirato in porta, che ha tirato molto più in porta di quanto non avesse tirato contro l'Udinese per esempio, quindi un Bologna tonico, voglioso, smanioso, prezioso, grazioso, sostanzioso, sugoso, che porta a casa tre punti enormi. Io credo che questi ragazzi meritino che magari quando tornano, non so, torneranno alle otto, io adesso non so, ci sia, ci sono dei tifosi ad attenderli e a festeggiarli.